salve a tutti belli e brutti aggiornamento del lunedì in attesa del super aggiornamento che uscirà presumibilmente fra dieci giorni oggi vuole essere bello tranquillo rilassato c'ho troppi cazzi miei per la testa a qualcuno sul mio canale youtube gli ho risposto gli ho risposto anche tra le righe perché tanto va bene chiaramente visualizzazioni va bene che mi seguite in molti va bene però e basta madonna mia madonna mia io devo stare a spiegare ogni volta ogni volta questo è il mio modo di portare pezzi non piace andate a seguire altri nessuno vi dice di non farlo è tutto gratis missione che è successo usa con le veloce consigliere di gioco di squadra quando giochi 102.000 ma ammazza allora completi obiettivi e che cazzo sono partite totali eventi tour mantieni la porti violato nel partito dell'evento tour cazzo 44 volte non ho preso gol a faccio tu cazzo non subire reti nelle partite vende squadre sogni un possesso parco di gioco di squadra quando gioco usa possesso parlo usa passaggio lungo ammazza usa e quando ingaggio giocatori ingaggio giocatori usando contratto mirato vabbè raga cosa c'è e cosa cosa c'è e cosa succede in città ragazzi come ieri siamo stati anche in molte abbiamo raggiunto non non più ormai cifre e visualizzazioni live degli anni passati per purtroppo questo è conami e tra ragazzi vediamo qui questo continua a non valerlo fa ragazzi non mi interessa per prendere che cosa poi i 10.000 gp ragazzi sinceramente non me ne può fregare ne ho tanti e ma se via non me ne frega un cazzo raga non me ne frega una beata minchia sono arrivati a quasi 3 milioni ragazzi ho comprato tutti quello che devo comprare hanno aggiunto oggi solamente il quello contro con il national team nuovo e basta ragazzi non c'è niente altro quello però comunque per i cazzi miei allora ragazzi io ho usato allenatori come ben sapete ho acquistato tutti gli allenatori fino adesso questo l'abbiamo usato e parecchio tempo simione morigno l'ho usato conte l'ho usato queste queste o no le champ l'ho usato mettiamola così e vi faccio vedere tutto il resto questa è manchester city che usa il possesso palla guardi ora ragazzi ma io non gioco al possesso palla si alla fine faccio girare anche la palla ma mi girano anche i coglioni crop l'abbiamo usato e l'abbiamo buttato il cesaga non mi piace questo è il vecchio allenatore santos e questo è ancellotti con 100 possesso palla ma non ho giocatori con possesso palla ragazzi queste allegli ho buttato nel cesso gasperini sarri e questo è lo stesso spalletti 80 contro il piede veloce è questo e queste 80 pure lui non va la pena gara fissiamo la col contrattacco devo prendere qualcuno vediamo questi sono ragazzi questo l'ho preso vabbè dai dai andiamo avanti con i miei giocatori allora vediamo che hanno messo lista pacchetti speciali questo è sempre con la calcata che stava il 1000 abbiamo preso nesta basta che avanzava questo non lo giro ragazzi non mi interessa il resto sempre lo stesso ragazzi 18 novembre pacchetti sempre gli stessi hanno tolto inter e miei ragazzi vabbè andiamo avanti andiamo avanti e facciamoci vediamo questo con che allenatore è gasperini andiamo avanti così abbiamo chiuso la live così ieri andiamo avanti così partita non c'è niente l'ha finito una volta che non direbbe la per questo campionato di football e mancano diciamo ma anche il cazzo manca andiamo avanti da 13 punti per andare a divisione 4 ma vai a cagare va volevo fare una mezza live ma il pomeriggio che festivo ci sto pensando ma per fare che cosa la scalata non lo so non lo so ammazzo io non trovo avversari vergognoso vergognoso ragazzi io non trovo avversari vergognoso è tutto vergognoso ragazzi è tutto vergognoso ieri sono ieri è stato un disastro totale ragazzi un disastro totale totale ragazzi totale totale allora prima vediamoli come gioco 84 spiriti di squadra a posto io lo metto all'inizio questo vaffanculo vai minchia valverde come sta minchia valdini questa messi se non si spompa qualcuno non ha mai capito cioè va bene non voglio fare i nomi se metti contropiede ti spompi di meno testa di cazzo eh ma la gente non lo capisce uno due tre andiamo due ragazzi 6100 vado è quelli che ma vabbè i tifosi sugli spazi potranno finalmente assistere allo spettacolo che il quale hanno pagato il vignetto perché ci segue da casa perché sta scendendo ma scusa gli hai fatto un fallaccio della madonna a quello per raccogliere i suoi benemini nel frattempo la gara iniziata pesa impeccabile vabbè vabbè stavo vedendo uno aveva 5.000 5.000 chi cazzo è questo aus mi piace 600.000 iscritti ma con la mia ottimo ma perché non sarà come si fa a prendere di testa raga io verano faccio fatica a capire sta cosa boh vabbè e c'è un altro corner a loro disposizione ma ancora zero per gli avversari ma ma io non è che non sto concentrato ma fa proprio schifo il gioco perché te la prendo ma ditemi voi una partita che uno gioca letteralmente con i guai la difesa che ha provato in tutti i modi ad arginarlo senza successo però il pessimo cliente per qualsiasi difesa l'ha appena dimostrato hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi ma lui si è liberato di prepotenza gran gol primo acuto della gara già nei minuti iniziali sceglie di andare per via verticali un intervento impeccabile holland libera il compagno non riesco neanche a parlare ho consumato troppe leggi ieri niente ma se si fa cioè se è quello ma guarda niente niente raga non riesco a tirare questo l'ha quinto raga non riesco a fare niente perché è palese la cosa l'ha quinto fa iso scarso si raga ma quando si mette pure il gioco contro non vale la pena proprio 2 a 0 fidatevi col cross ennesimo lo munisci mi auguro nesta prova a verticalizzare lungo passaggio in avanti no vabbè da raga da vabbè e va bene e va con cross tu e fai un cazzo di gol vaffanculo vai e te lo faccio io il cross cioè raga se non merito di stravincerio sta partita è vergognoso veramente che cazzo non gli sto facendo capire niente o poi ditemi e ma tu sempre così di ma perché becco solo quelli di napoli è vero che in primi in classi quando ci sono in campo due squadre di questo calibro ecco lo spettacolo che ti aspetti vota e risposta colpo su colpo ora bisogna vedere chi avrà più carattere al centro campo e pretezza sotto porta holland e trova bene il compagno e uff può tentare alla conclusione ottimo tentativo ma non trova il gol quinta divisione raga quinta divisione pietro sta al minimo già in terza quinta divisione ma perché la dai a lui? perché tirano piano a me? perché io c'ho dei tiri delle ciofeca se non faccio il tiro sensazionale fanno dei tiri di merda una volta che la prende la do sembra lui dai col cross la gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di uno o di uno gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo le squadre vanno a riposo lungo la testa un incontro interessante dagli sviluppi tutti da seguire eh madonna mia ma mai una gioia mai una gioia qua qua questo è scorso dai raga ma veramente niente mai una gioia mai mai una gioia tutta cura questo va dai valla prenda la forza dai vinto for radio che non uso mai il movimento è stato perfetto si è fatto trovare pronto e ha segnato qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi certo ma la difesa non è esente da colpe solo il vantaggio di un gol ribaltare un gol non gliela tolgo non gliela tolgo la muetto di kick off vediamo se ce la faranno fermati ecco ma guarda questa è una cosa che devono migliorare dai è cross ma perché la morte da mamma continuo a fare le frasi si prova eh no troppo centrale mannaggia a me mannaggia no no ho sbagliato io riuscito ho sbagliato ho sbagliato io riuscito ho sbagliato io riuscito matematica che cazzo di goda pesce lesso che prendo eh no questo tutto holland tutto fare holland è questo guardate 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 eh che come e ha fatto il segno dell'altro lato comunque eh vabbè guardate 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 L'ha aperto questo, l'ha aperto. L'ha aperto, guardate che fa l'ha fischiato, guardate che fa l'ha fischiato, che vergogna veramente, che vergogna veramente, ma cosa si butta in quel modo, scusami, perché ti sei buttato in quel modo il portiere? Guardate, boh. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Due per la terza. Il padre spinge! Vabbè. Allontana. E la va dalla lui. E dai, maledetta, la muerte da Mantua, ma come cazzo è che è ingiocabile? Come cazzo è che è ingiocabile? Come cazzo è che è ingiocabile? Come cazzo è? Come cazzo è? È tutto ingiocabile, è sto gioco di merda. È ingiocabile, manio. È ingiocabile, è ingiocabile. Oh. È ingiocabile. Ma perché? Oh, vai. Vaffangulo, eh. Gol della merdaccia proprio questo. E che cazzo? Onitana ha botto di culo, wanyu. Mamma mia, c'è così, eh. È bello il 5 cambio, la gamma, ma io voglio la panchina lunga. Normalmente sorvegliato speciale. Niente. I alimenti di tutti devono essere ben coordinati. Sempre lui, ancora una volta, dobbietà. E passano il vantaggio. Eh, una volta in un'altra, wanyu. Ma dovranno darsi da fare per dipenderlo. Valverde. Ma non era a Messi. La cazzo, giuro, l'ho data a Messi. Oh, eh, va beh, va. E come cazzo è lento il mio online? Mannaggia la mutta da mamma. E devi dare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La deve dare per forza a lui. Per forza, deve fare il cross. Guardate. Enesimo cross, vai. Enesimo cross e l'ange nessuno. Ah, va a fangura, va. Disperati, disperati, disperati. Dai, stai a meritare a darmi la vita, dai. Non me ne fotti un cazzo. Non fischia. Mamma mia, c'era. La nostra telecronaca termina qui. Possesso palla. Puoi avere avuto tutto il possesso palla che vuoi. Ma dove è tirato in porta? Io, boh, vabbè. Guarda, io gioco più via centrale. Avete visto? Questa è la dimostrazione. Vabbè, prendiamoci i tre punti e portiamola a casa. Tre vittori di fila. Che schifo sto gioco. Beh, no. E vabbè, ciao. E dai. No, vabbè. Quarto. Siamo tutti là, ma io. Andiamo avanti. Dunque, ho giurato. Non ho capito. Maracana. Boh, ma c'è mai la già metto. Ganga a lui. Vennera a me la. Alisson sta a palla. Oland sta a palla. È a main. Giavorrullano. Come faccio? Non farò giocare. Vai a fanno in colonna. Tanto mi fai cacare i vermi. Proprio tu. Adesso. Azzcus, come sta. Darò metto da David. Secondo tempo. Difensori. Ok. Messi. e un vabbè velocità 91 vabbè vabbè attacco 1 attacco 2 attacco 3 non c'è mai pop cap c'è questo allora ragazzi devo fare la Juve buon Halloween a tutti Halloween buon Halloween a tutti luca forzato il crugino di luca giurato e perché non salta mannaggia la morta da mamma il stadio eccezionale l'emirates elegante e al tempo stesso se sapeva il coppino una che fa il corsa la partita è già cominciata provo a cambiare la situazione con una giocata in avanti grandissima lettura riconquista il pallone ma foca ottima scelta di tempo la gioca in profondità intervento decisivo ma boh a diritto la madonna quanto è brutto venicio sì non voglio mamma ma che cazzo gliela dava fare bene bene no tu cerco sminchiamento guardate il fallo che ha fatto a quello glielo ha fischiato ma non era a diritto al centro c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio vabbè non era proprio non era proprio a lui però non ho capito come sta giocando questo e questo è un passaggio quantomeno discutibile non riesca a capirlo proprio ancora sbagliato Mbappé Mbappé Casemiro un altro passaggio ben eseguito buona costruzione bell'anticipo ora possono ripartire decide di sfruttare la fascia ma stai scherzando no vabbè vabbè le sto vedendo tutte oggi oggi ultimamente oggi va a muerto perché gioca solo così questo ma ecco a cross non grossi a cross stai facendo a per piacere ma vai a fare in culo vai da da te la faccio bella completa te la faccio da ah la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso niente da fare per il portiere 1-0 dunque questo gol li porta in vantaggio ma manca ancora molto tempo oh prova ad allargare sua fascia ma con scarsi risultati prova a verticalizzare for lan vede lo scatto e cerca la profondità tutto bene fino però all'ultimo passaggio a volte è necessario di pazienza aspettare il momento giusto per se vi ricordate un passaggio un po' telefonato in questo caso va va vaffanculo vai oh ci vuole pure a doppio qua e no ma più forte mannaggia che da chiapca da manco da cccati oh oh beh dai stai esagerando pochettino signorino stai esagerando dai mannaggia mannaggia ah per poco eh vediamo io non l'ho toccato oh oh no 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 ma fregati ancora che coglione mi veda di che sei un coglione non è preso 2021 cioè voi non so come spiegare voi si è fissata fa sta cosa eh vabbè eh va bene dai dovevo prendere il gobbio abbiamo capito dai dai tira beh ma che cosa si butta a terra questo vaffanculo vai scusate 88 prima 98 vabbè vabbè non lo so ragazzi sto prendendo il squazzino dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa 1 a 0 alla fine della prima operazione risultato in vivo è vero faccio essere una leggenda capito tutto oh perché? madonna mia la madonna che cura e che cura per dopo butta l'ho visto che fanno gliela dai perché fa così la macisa madonna mia non male i corsi l'ho detto il nuovo via è questo peccato io ci provo la raga sto bomba sto bombardando va bene la nana vabbè vabbè va bene va bene l'arrile vandati come stava andando mannaggia da me bello ok è giusto che prendo il gol raga è giusto che cazzo ho fatto lo c'è che cazzo combinato finito il campo voglio e che cazzo vai 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 oh e conclusione vincente ma è stato bravissimo una performance da goliatore stiamo giocando bene non riuscivano allevargliela avanzano bene dai mettiamo maldini e che cazzo e che cazzo è il betty neanche oggi gioca ma diciamo ma ma se sta facendo la scelta calma che quando un iniziava partita ha detto mannaggia cossi insiste a scartarmi possono le capi non lo puoi fare non lo devi fare ma tutti a uomo c'era tra le paolino niente ragazzi non devo fare più la finta a tirare inutile ci provo ma non io ci bomba niente ma che bomba e di davis perché ragazzo è andato di testa l'anno guardate ci riprova ma se testa da veramente in che divisione stario se stato sia arrivato massimo c'è bisogno di lucidità e pazienza altrimenti diventa difficile costringe al passaggio al fallo una serie di passaggi puliti efficaci e che ho fatto no non ho capito sta cosa ma tornano a guardi farli che fa questo è una cosa incredibile sia una cosa in che cosa scusami ma